Se il 29 giugno ci fossero delle divise come si sono stamattina, noi farebbe più piacere averle e sicuramente stare con noi questo 29 avrà questo significato di veramente far sentire che anche se è passata l'emergenza, speriamo che qui al 29 sia tutto finito, quantomeno sia per finire diciamo che vogliamo far capire le persone che non è tutto passato ci sono delle cose che vanno sistemate, come si diceva soprattutto nelle mostre sul lavoro e soprattutto che l'ospedale Versilia ma tutti gli ospedali d'Italia hanno bisogno veramente di attenzione importante da parte di tutti e soprattutto da parte di chi si amministra